Per ottenere il riconoscimento dei danni subiti nel processo a carico dei quattro giovani accusati di tentato omicidio gravato e che ieri sono stati mandati a processo con rito immediato dal GIP Stefania Pepe, su richiesta del PM Elio Ramondini, Nicolò Bettarini, figlio 19enne di Stefano Bettarini e di Simona Ventura, ferito con otto coltellate e preso a calce e pugni lo scorso primo luglio davanti alla discoteca All Fashion di Milano, si costituirà parte civile. Il processo, chiarisce il legale, inizierà il prossimo 13 di novembre. È probabile però che i quattro imputati chiedano di essere giudicati con rito abbreviato e in quel caso sarà un guppo a dover fissare la data del processo. Dalla brutale aggressione, il 19enne era riuscito a salvarsi grazie all'intervento della fidanzata e di un amico che era riuscito a fare in modo che la furia aggressiva del branco si placasse. Ieri dunque i quattro giovani, finiti in carcere per tentato omicidio, erano stati mandati a processo con rito immediato, saltando l'udienza preliminare per l'aggressione avvenuta lo scorso primo luglio. Lo aveva deciso il GIP Stefania Pepe, che aveva accolto la richiesta del PM, fissando la data d'inizio in novembre. Nell'ordinanza di custodia in carcere, il GIP Pepe aveva spiegato che i giovani si erano certamente prefigurati che quel pestaggio e quei fendenti, in parti vitali con una lama da 20 centimetri, avrebbero comunque potuto produrre conseguenze mortali, anche in considerazione della loro superiorità numerica e della violenza della loro azione. Da qui l'accusa di tentato omicidio riconosciuta dal giudice. Nel frattempo le indagini condotte dalla squadra mobile continuano con l'obiettivo di identificare anche gli altri giovani che avrebbero preso parte al blitz di quella sera.